Ho nelle mani il telecomando delle meraviglie, anzi i telecomandi delle meraviglie, perché quelli che vedete nelle mie mani sono i telecomandi marchiati LG Signature che comandano questo oggetto straordinario. Un televisore a 65 pollici di diagonale con lo standard 4K, con la possibilità di utilizzare anche lo standard 3D grazie agli occhialini incorporati, ma soprattutto con una serie di funzionalità smart che potete controllare tanto con il telecomando semplificato, insomma quello che viene utilizzato da chi ormai non guarda più la televisione, ma se siete ancora di quelli invece che guardano rete 4, allora a questo punto avete anche il secondo telecomando con il tasto principale che potete utilizzare, c'è questo con il numero 4. Ma come funziona esattamente questo LG OLED da 65 pollici con lo standard 4K? Intanto bisogna dire che questa versione da 65 pollici in Italia non esiste, ce n'è una da 77 pollici con un costo intorno ai 20.000 euro. Io vi inviterei tra l'altro a dare un occhio anche alla parte posteriore perché i connettori che sono piazzati in questo televisore sono veramente tanti ed interessanti. Più in fondo c'è la parte in pratica con i connettori audio con diversi standard sia con l'uscita ottica che con l'uscita tradizionale e poi avete l'ingresso anche satellitare, ingresso ed uscita satellitare, l'attacco per l'antenna tradizionale, la porta LAN perché questo televisore si può collegare tanto con il wifi quanto con la porta LAN, 4 HDMI e poi 2 USB normali e una USB 3.0. Peraltro sottolineo il fatto anche che avete lo slot PCI MCA per l'inserimento della cam e quindi per guardare i prodotti a pagamento in Smart TV. Guardiamo insieme anche che cosa succede utilizzando il telecomando. Essenzialmente attivando vedete il tasto home potete scegliere tra quelli che sono i comandi fondamentali. Il vostro telecomando funge esattamente come un mouse di computer e potete andare a vedere contenuti ad esempio come quelli di musica, foto e video che potete andare a pescare dalla vostra chiavetta USB, potete navigare in internet oppure avete visto la parte più avanzata, quella cioè delle smart application per cui ad esempio Netflix. Sottolineo tra l'altro che questo televisore ha come sistema operativo WebOS quindi il sistema operativo che LG ha rilevato da Palm che essenzialmente alimentava i vecchi prodotti di Palm anche i telefoni. Il Palm Pre ad esempio aveva WebOS che è stato rivisitato per apparire insomma dentro i televisori di LG. Allora in questo caso la cosa più difficile probabilmente è trovare i contenuti 4K con soli 2 euro in più rispetto all'abbonamento normale quindi con 11,99 euro. Netflix vi propone un ampio panorama di prodotti 4K ma non si sa mai se sono nati per essere 4K oppure se sono upscalati, diciamo usiamo questa parola orrenda verso questo standard. Però bisogna dire che tanto dal punto di vista dell'audio quanto della qualità dell'immagine questo LG OLED è veramente un prodotto straordinario. Ripeto in questa versione 65 pollici non ufficialmente disponibile in Italia costa circa 7 mila euro, la versione da 77 pollici ne costa circa 20 mila. Io ho deciso di vendere l'auto, di andare a piedi ma di vedere Netflix in un modo straordinario. Bellissimo. Prendo il telecomando, lo guardo per un'ultima volta e lo bacio prima di rispedire il televisore a casa sua. Ciao!